Ciao ragazzi! Nella lezione precedente abbiamo imparato a risolvere addizioni fra frazioni che hanno lo stesso denominatore o denominatore differente. Oggi vogliamo fare lo stesso con la sottrazione o differenza fra frazioni. Partiamo da una differenza molto semplice, quella per cui le frazioni hanno lo stesso denominatore 10, per cui la frazione risultante, così come abbiamo fatto per l'addizione, avrà lo stesso denominatore delle frazioni di partenza e al numeratore dovremo effettuare la sottrazione fra i numeratori di partenza 9 e 3. Dunque la frazione risultante è 6 decimi che si può ulteriormente semplificare, ottenendo così la frazione 3 quinti. Se invece consideriamo la differenza fra le frazioni 23 venticinquesimi e 14 venticinquesimi, il risultato avrà come denominatore il numero 25 e come numeratore la differenza tra 23 e 14. Ma allora 23 meno 14 fa 9 e il risultato di questa sottrazione è 9 venticinquesimi. Prendiamo ancora un'altra sottrazione molto semplice, 11 dodicesimi meno 5 dodicesimi, ma adesso siamo bravissimi nel risolverla in quanto la frazione risultante avrà denominatore 12 e numeratore pari alla differenza tra 11 e 5. Il risultato 6 dodicesimi si può semplificare dividendo numeratore e denominatore per 6. vediamo ancora un altro esercizio, quello in cui, così come abbiamo fatto per l'addizione, compare un numero intero e una frazione. Trasformiamo allora quel numero intero in una frazione apparente che abbia lo stesso denominatore di 7 ottavi, in maniera tale che possiamo applicare la procedura che abbiamo applicato negli esercizi precedenti. Il numeratore si calcola molto facilmente, basta moltiplicare il denominatore di 7 ottavi, cioè 8, per il numero intero 2 per ottenere 16, che sarà il numeratore della frazione apparente 16 ottavi, che sarà sostituita appunto a 2. Infatti ragazzi, se provate a semplificare 16 ottavi, 16 diviso 8 otterrete appunto 2 e poi proseguirete con la sottrazione fra 16 ottavi e 7 ottavi. Per convincerci di ciò andiamo a fare un altro esempio, 10 settimi meno 1, 1 lo trasformiamo in una frazione apparente che stavolta ha come denominatore 7 e come numeratore, molto facilmente, trattandosi del numero 1, sarà 7 ancora, in quanto la frazione apparente 7 settimi corrisponde all'intero 1. Equivalentemente si sarebbe potuto moltiplicare il denominatore di 10 settimi per il numero intero 1 ed allora si applica la procedura di qui sopra, 10 settimi meno 7 settimi è uguale a 3 settimi. È arrivato il momento di risolvere sottrazioni fra frazioni che hanno denominatore differente, ma ragazzi la procedura è identica a quella che abbiamo applicato per le addizioni fra frazioni con denominatori differenti. Infatti, se ricordate, dobbiamo calcolare il denominatore comune. Come lo si calcola? Semplicemente calcolando il minimo comune multiplo fra i denominatori delle frazioni di partenza. I denominatori sono 8 e 6, che scomposti sono 2 alla terza e 2 per 3. Il minimo comune multiplo si calcola facendo il prodotto fra i fattori comuni e non comuni presi una sola volta con l'esponente maggiore, quindi 2 alla terza per 3, che ci dà come denominatore comune 24. Dobbiamo allora trasformare 5 ottavi e 1 sesto in frazioni apparenti che abbiano come denominatore 24. Come si fa? Molto semplice. Prendiamo il denominatore della frazione risultante, lo dividiamo per i denominatori e i risultati ottenuti li moltiplichiamo per i numeratori, quindi 24 diviso 8 per 5 ci dà 15. Ancora 24 diviso 6 fa 4 e 4 per 1 fa 4. Ricordatevi che tra 15 e 4 dovete inserire il simbolo della sottrazione e allora otteniamo come risultato 11 ventiquattresimi. Per comprendere meglio la procedura è necessario allenarsi, quindi facciamo un altro esempio. Tra 16 e 8 il minimo comune multiplo è molto facilmente 16 perché 16 è multiplo di se stesso e di 8. Poi prendiamo il denominatore comune, lo dividiamo per il primo denominatore e il risultato lo moltiplichiamo per il primo numeratore. Riscriviamo il simbolo di sottrazione e facciamo lo stesso, 16 diviso il denominatore 8 fa 2 e 2 per il numeratore 3 fa 6. Alla fine dobbiamo solo svolgere la sottrazione al numeratore, 7 meno 6 fa 1 e il risultato è un sedicesimo. Ragazzi, adesso vi invito a riflettere su una cosa fondamentale. Cosa vi ricorda la sottrazione fra l'intero 1 ed una frazione propria? Ebbene sì, se all'intero 1 togliamo la frazione 3 quinti, non stiamo facendo altro che ottenere la frazione complementare di 3 quinti, cioè 2 quinti. Quindi, piuttosto che andare a sostituire 1 con la frazione apparente 5 quinti, possiamo semplicemente rispondere con la frazione complementare di 3 quinti. Giunti alla fine di questa lezione, vogliamo fare degli ultimi esercizi di ricapitolazione. Se dunque abbiamo una sottrazione fra frazioni che hanno lo stesso denominatore, riscrivete lo stesso denominatore e al numeratore fate la differenza dei numeratori di partenza. In questo caso, avendo ottenuto 8 ventesimi, si può semplificare dividendo 8 e 20 per 4. Se i denominatori delle frazioni sono differenti, andate a calcolare il minimo comune multiplo. Prendete quest'ultimo, dividete per 20 per ottenere 1 e moltiplicate per 15 per ottenere 15. Riscrivete il segno, 20 diviso 4 fa 5, 5 per 1 fa 5, il risultato di questa sottrazione è 10 ventesimi che si può semplificare per ottenere un mezzo. Vediamo ancora un altro esercizio, 5 ottavi meno 10 sedicesimi. Attenzione ragazzi, in questo caso bisogna applicare un po' di furbizia, infatti 10 sedicesimi si può semplificare e si ottiene proprio 5 ottavi, per cui la sottrazione di partenza diventa 5 ottavi meno 5 ottavi che restituisce 0. Infine, se abbiamo una differenza fra un numero intero e una frazione, trasformate l'intero in una frazione apparente avendo lo stesso denominatore di 3 ottavi e il numeratore lo ricavate facendo il prodotto tra il denominatore di 3 ottavi che 8 per il numero intero 2. Questa operazione si poteva svolgere diversamente, infatti ogni numero intero è anche un numero razionale, per cui 2 lo possiamo vedere come frazione 2 primi, dopodiché si riduce ad una sottrazione fra frazioni aventi denominatore diverso, ma in questo caso il minimo comune multiplo è semplice perché tra 1 e 8 e 8 e alla fine giungete comunque allo stesso risultato. Bene, la lezione è finita, ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!